La dirigente, questa scuola prepara veramente al mondo del lavoro? Sicuramente sì, da qua escono ragazzi che hanno già le competenze per poter inserirsi in maniera produttiva nel mondo del lavoro, soprattutto in ristoranti, alberghi, attività commerciali, esercizi turistici e roba di questo genere. È una professione che in genere porta anche a lavorare fuori, quindi in giro per il mondo, anche nella nostra nazione, che sappiamo, a grande vocazione turistica. È successo però in questi giorni che un albergatore del Nord Italia ha inviato un'email spiegando che non avrebbe più assunto giovani provenienti da Favara. Sì, è vero, non possiamo nasconderlo. C'è stato un albergatore della Valtellina che ha mandato una mail in cui diceva proprio questo, che non avrebbe più preso lavoratori provenienti da Favara e soprattutto da questa scuola qua. Devo dire però la verità. Mi ha mandato un'altra mail, perché a quanto pare la prima era stata intesa in maniera errata. L'albergatore ha affermato che non vuole su quei quattro pirla che hanno combinato il fatto, non il resto. Anzi, sarebbe molto, molto compiaciuto di avere bravi ragazzi preparati da questa scuola. Una volta per tutte. Secondo lei, che cosa è successo? Cosa è successo? È successo un fatto gravissimo. Un fatto gravissimo, ovvero dei ragazzi hanno gettato dei gessetti e dei pezzetti di carta nell'atrio. Giù c'era la macchina della polizia, il poliziotto è intervenuto rimproverandoli. I ragazzi, invece di rientrare vergognandosi, hanno reagito con degli sberleffi. E questo è sbagliatissimo. Tanto è vero che la punizione doveva esserci. Doveva esserci assolutamente. Sarebbe stata molto, molto pesante nei riguardi di questi maleducati. Purtroppo non siamo riusciti a individuarli. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di punire tutti i ragazzi di quel piano, le cui aule insistono su quell'atrio. In che maniera? Non tanto con la repressione, bensì cercando di riportarli al ragionamento, riportarli all'ordine e alla legalità. E quindi dovranno tinteggiare le pareti delle proprie aule e dovranno anche fare servizi sociali per l'intero anno scolastico, una volta alla settimana, presso le associazioni di volontariato del territorio. Oggi qui c'è un atto ispettivo. Come state vivendo? Lo stiamo vivendo, dico, è una qualcosa che naturalmente doveva esserci visto il risalto che è stato dato dalla stampa al fatto. Lo stiamo vivendo bene, è solo un controllo tutto qua.